E' in occasione della giornata nazionale degli alberi che l'amministrazione comunale di Arezzo ha deciso di piantare un nuovo albero al posto del pino di via Vittorio Veneto, il cui taglia aveva suscitato non poche polemiche. Si pianta un'altra pianta appunto perché il pino non è stato rimosso per il divertimento di rimuovere una pianta ma perché era pericoloso così come sono pericolosi tanti pini che sono posizionati lungo le strade di Arezzo. Quindi questo è un gesto assolutamente simbolico, significa che siamo attenti a questo tipo di argomento. Verranno piantate ulteriori piante anche al Parco del Mulinaccio e anche in altre zone di Arezzo. Però quello che vogliamo rimarcare è che l'amministrazione comunale quando rimuove le alberature le rimuove per motivi di pericolo, non perché si diverte a creare un disagio, a infastidire i cittadini. Verrà prontata una laga estremia indaca che è una pianta che abbiamo già posizionato in altre zone di Arezzo, quella che è in Piazza della Repubblica ormai da diversi anni, piuttosto che dietro San Domenico. Ne sono ormai diverse in città, è una bella pianta perché fa molti fiori, è gradevole anche a livello estetico e non è molto impattante a livello visivo perché mettere piante ad alto fusto in queste zone non è molto adatto. È anche una scelta sicura ovviamente questa? Ovviamente sì.